Players, ma quando mi ricapita di essere tra quattro campioni, quattro vincitori del main event e i campioni italiani rispettivamente, veramente, nel 2014, 2017, 2018, 2021. Allora, vincitori, quali sono le sensazioni e soprattutto come stare accanto a chi ha vinto lo stesso vostro trofeo? Parto da Salvatore. Come ti dicevo prima, è sempre bello vincere, quindi sensazioni bellissime. Salvatore Bonavena, chiaramente ha vinto nel 2014, poi in ordine, 2017, troviamo Nicola Benedetto. Beh, sono sensazioni indescrivibili di un torneo con una struttura che ti permette di esprimerti. 2018, Roberto Rigio. Sono abbastanza orgoglioso di essere vicino a giocatori di grande livello. Chiaramente, 2021, abbiamo lui. Sono un po' timido e con questi campioni qui di fianco è dura. Romano, attenzione ragazzi, si prospetta un grandissimo evento anche nei campionati italiani 2022. Giela a tutti. 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 Grazie a tutti.